Una folle corsa alle 14 del pomeriggio lungo la strada regionale 11 tra Rubano e Mestrino è finita con l'arresto di tre persone, la fuga roccambolesca di un Audi A6 intercettata dai carabinieri nei pressi dell'ufficio postale di Rubano dopo la segnalazione di alcuni cittadini al 112. I militari si sono avvicinati per un controllo quando l'auto è rombata allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento con vari tentativi di speronamento delle gazzelle dei carabinieri da parte dell'auto che si è concluso a Mestrino nella zona industriale. Durante l'inseguimento sono stati esplosi alcuni colpi di pistola da parte dei militari indirizzati alle gomme del veicolo. I tre a quel punto hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma sono stati intercettati e arrestati. Indagini sono in corso per capire le reali intenzioni del terzetto.